Inizio 5 giorni Sabato 24 novembre, Santa Flora di Cordova è il 328esimo giorno, dall'inizio dell'anno ne mancano 37 al termine il sole sorge alle 7.22 e tramonta alle 16.36 la luna si leva alle 17.59 e tramonta alle 8.23 Al teatro San Samuele di Venezia si rappresenta la tragedia in versi Belisario che segna il battesimo teatrale di Carlo Goldoni il successo è lieto, come ebbe a scrivere lo stesso autore la rappresentazione fu ascoltata in un silenzio straordinario e quasi sconosciuto negli spettacoli d'Italia il pubblico, abituato allo strepitio, rompeva il freno solo negli intervalli con grida di gioia e battimani tanto che gli stessi attori erano commossi le previsioni per domani cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso sulla pianura localmente piovigili e a tratti con nebbie fino all'alba in dissolvimento nel corso del mattino e nuova formazione di sera temperature in calo